benvenuti amici vapers benvenuti canale youtube a li svapo io sono mister nino tata trattino passo tnt l'ultimo liquido prodotto da iron beber ovvero le vanille un liquido estremamente dedicato alla vaniglia un liquido che regala sensazioni forti al palato dedicato solo esclusivamente alla vaniglia il liquido si presenta in uno shot da 20 ml andranno aggiunti 30 ml di glicerina ed una basettina con le bollicine a piacere step di maturazione consigliato almeno 48 ore il liquido è composto come una lode alla vaniglia a differenza delle tante proposte del mercato sia italiano che americano e amici miei io amo la vaniglia quindi i prodotti li ho provati tutti quanti ok e mi sono piaciuti la maggior parte dei prodotti che sono stati messi in commercio ma la differenza tra quelle che erano castardo ovvero creme di vaniglia oppure creme composte con la vaniglia con l'aggiunta di burro con l'aggiunta di pistacchio con l'aggiunta di caramello questo liquido si va a differenziare perché è senza creme quindi andremo a svapare solo ed esclusivamente l'essenza della vaniglia ovvero il baccello la bacca di vaniglia la differenza di questo liquido è infatti e come si presenta nella sua composizione il liquido è totalmente trasparente noi sappiamo benissimo che le vaniglie tendono a dare un colore al liquido tendenzialmente su un giallino una volta maturato tende anche sull'arancione bene il liquido amici miei è totalmente trasparente quindi non abbiamo una crema di vaniglia ma abbiamo l'essenza di vaniglia quindi andandola a vaporizzare andando ad utilizzare sistemi con delle alte temperature partendo dal cloud chasing al flavor chasing e io vi dico che l'ho provata su tantissimi dispositivi tanto è vero che il primo flacone l'ho terminato mi è piaciuta e ne ho ricomprato un altro altrimenti oggi non potevo stare in recensione con voi quindi ares 3 di mcs mod kennedy e cap in ultim resistenza stiamo sui 0 12 amici miei ciò non toglie che il prodotto può essere utilizzato su quei classici sistemi a testine che sia un atomizzatore che sia una flavor pod con la resistenza mesh questo liquido uscirà altrettanto bene io mi sono trovato a trovare delle sfumature oltretutto che zuccherine anche speziate solo quando sono andato ad alzare i watt quindi più l'andiamo a scaldare più questo liquido regala tonalità o sfumature differenti sul palato quindi dicevamo alla fine della svapata si deposita questa parte deliziosa diciamo anche cremosa che il liquido deve restituire ad ogni svapata rilascia sulla bocca proprio il sapore dell'essenza di una vaniglia quindi del baccello di una bacca di vaniglia amici miei io vi ringrazio per aver visto questo video vi invito pertanto a lasciare un like servito vi è piaciuto commentate il video ditemi cosa ne pensate di questo prodotto mi trovate anche su instagram basta fare una ricerca tatà e scriverò lì svapo lasciato un like sulla mia pagina facebook io vi saluto e vi ringrazio per aver visto questo video vi invito pertanto a rimanere sul canale per la mia prossima recensione saluto tutti quanti ciao mister nino tata